Faccio un breve appunto audio video su un post di cui ovviamente metto il link in descrizione che ho scritto oggi su Linkedin. Devo fare anche una premessa. Negli ultimi due giorni, ieri e oggi, sono stato con il team security dell'azienda per cui lavoro, un team abbastanza strutturato, abbastanza grotto, siamo diverse persone e annualmente ci incontriamo per discutere di varie tematiche ovviamente relative all'assicurazione informatica e parlando con i colleghi mi è tornato ovviamente alla mente il pensiero della tematica della formazione perché sono tutte persone molto formate, molto competenti, che vengono da ambiti diversi e che hanno un certo tipo di, hanno fatto un certo tipo di path per arrivare alle competenze che hanno oggi in vari settori, sempre nel mondo infosecurity ma in tantissime, nelle sue varie ramificazioni, non fanno tutti la stessa cosa. Ognuno ha il suo path, ognuno ha la sua specializzazione. Una cosa che mi stupiva, che mi stupiva, che mi faceva riflettere e che trovo interessante è che tutti hanno sviluppato delle skill di base tecniche molto molto profonde e su quelle hanno poi costruito una competenza in ambito sicurezza informatica. Ad esempio, chi lavora in ambito firewalling, quindi nel contesto network security, ha profonde competenze di networking. Chi lavora anche in ambito offensivo e ha preso una specifica strada, io ad esempio lavoro proprio nella parte infrastrutturale, ha competenze nel mondo sistemi, server, applicazioni. E spesso ha fatto anche quel tipo di lavoro prima di verticalizzare le proprie skilli sulla sicurezza informatica. E una cosa che scrivevo nel post, che mi faccia riflettere è che tendenzialmente, forse un po' di più nel mondo, diciamo, offensivo, ma in realtà anche in altri contesti, ho notato e anche altre persone hanno notato una certa tendenza a, in qualche modo, saltare delle tappe e arrivare subito alla competenza, cercare di crearsi da subito una competenza verticale sulla parte security senza conoscere lo strato sottostante. E parlando con, non solo con i miei colleghi, ma anche con, ad esempio, le persone che sono attive sul gruppo Telegram o su Discord, ma anche durante alcune live questa cosa era nota fuori, molti opinioni, quindi io nel post riporto delle opinioni con cui concordo, ovviamente, e molte di queste opinioni andavano a parare su questo tema, sarebbe opportuno prima farsi delle skill di base, non necessariamente approfondite, sui vari contesti, solitamente ne sono stati nominati tre, l'ambito network, l'ambito sistemi e l'ambito coding, quindi programmazione e scripting. E una volta che si ha un background di base, intanto si riesce a scegliere meglio il contesto in cui si vuole operare. Poi se c'è effettivo interesse verso la parte security, scegliere un ambito, ma conoscendone lo stack sottostante. Questa è un pochino la riflessione che riportavo nel posto. Immaginavo che l'opinione facesse in qualche modo, generasse qualche reazione, effettivamente c'è stato qualche commento sotto, quindi approfitto di questa sessione in vlog per anticipare che stasera no, ma domani o dopodomani mi ricavo uno spazietto live per fare una cosa che è un po' di mesi che volevo fare, cioè partendo dal post ci leggiamo i commenti delle persone che hanno commentato e discutiamo sui commenti perché sono tutti interessanti, dal mio punto di vista tutti quelli che hanno commentato hanno detto qualcosa che in qualche misura è condivisibile o può far riflettere ulteriormente, quindi ce li prendiamo uno a uno, in questo momento sono una decina e discutiamo magari su quelli, facciamo una breve sessione. E poi ovviamente chi ha voglia di dire la sua benvenga, lascio appunto il post in descrizione. Basta poi vi aggiorni invece sulle cose che ho fatto gli ultimi due giorni, un altro momento in questa due giorni di full immersion sulla parte security che è stata molto interessante e divertente. Bye!